Purtroppo il terribile schianto frontale sulla Pergolese tra un'ambulanza della Croce Rossa di Pergola ed un tir di giovedì scorso con cinque persone coinvolte di cui due gravi trasportate all'ospedale regionale di Ancona da due eliambulanze registra una vittima. Non è l'autista dell'ambulanza, apparso subito il più grave, rianimato anche sul posto dai soccorritori del 118 prima del trasbordo. Lui, Moreno Mancini di 60 anni, a causa delle gravi lesioni toraciche tenuto in coma farmacologico, mostra in queste ore segni di miglioramento. A perdere la vita è stato il trasportato dell'ambulanza. Nello Tonelli, di 77 anni, non ce l'ha fatta. È morto a luna di notte di domenica anche se non era considerato dai sanitari dell'ospedale San Salvatore di Pesaro, dove l'anziano era ricoverato, in pericolo di vita. Nell'incidente aveva riportato una serie di ferite al capo e all'orecchio ed una brutta frattura al femore. Nello si trovava a bordo del mezzo della Croce Rossa di Pergola assieme alla moglie, di ritorno dall'ospedale di Fano, dove era stato per accertamenti nel reparto di oncologia, dove era seguito da tempo a causa della sua malattia. La moglie di Tonelli, Primula Beciani, non si capacita però della morte del marito e vuole capirne la ragione. Ha infatti dato in carico ai suoi legali di visionare la cartella del marito. La stessa moglie riferisce che i medici avevano ipotizzato un intervento con protesi per il marito, intervento poi non eseguito per gli alti rischi a cui poteva andare incontro Tonelli, ma questo non è stato sufficiente. Nello Tonelli è morto per le gravi conseguenze dell'incidente. Il 77enne era molto conosciuto a Pergola e oltre alla moglie lascia anche una figlia.